Sarà odio o sarà amore? Sono cresciuti insieme, ma ora tutto sembra diverso. Qual è il segreto di Jared? La prima volta che ti innamori è sempre la più dolorosa. Un romanzo delicato e intenso, il primo di una nuova appassionante serie. Best seller del New York Times e di USA Today. Mai per amore. Di Penelope Davies. Newton Compton, editor.